La recente notizia del pensionamento anticipato del nostro caro Windows 10 ci ha lasciato tutti quanti con la mano in bocca. Ora che conosciamo alla perfezione quando smetteranno di uscire gli aggiornamenti del nostro Windows 10, sono obbligato ad effettuare l'upgrade a Windows 11 oppure posso ancora aspettare? È sensato aggiornare il vostro sistema se proprio recentemente abbiamo avuto la conferma dell'arrivo di un nuovo sistema operativo targato Microsoft? Troverete tutto questo assieme alle recentissime notizie del mondo tech all'interno del video di oggi. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di rispondere ad una delle domande più complicate dell'ultimo periodo. Aggiornare o no a Windows 11? Allora iniziamo col dire che no, non siete obbligati a passare a Windows 11. Se siete ancora fottutamente innamorati del vostro Windows 10, tranquilli perché avete ancora diversi mesi prima che il supporto venga completamente interrotto. Ma che succede se continuate a utilizzare quel sistema anche dopo la fine del supporto da parte di Microsoft? Beh, molto banalmente il sistema operativo non sarà più aggiornato per il futuro. Quindi risulterà vulnerabile non solo ad una marea di bug magari introdotti con l'interazione di applicazioni e il vostro sistema operativo obsoleto, ma soprattutto non vi aggiornerà più Windows Defender. Questo vuol dire che a livello di sicurezza il vostro sistema operativo sarà molto molto instabile. Visto e considerato però che possiamo provare Windows 11 e ritornare indietro a Windows 10 grazie a una funzionalità che ci ha dato il nostro sistema operativo, cerchiamo di capire se è sensato fare l'upgrade oppure aspettare direttamente il nuovissimo Windows 12. In questo momento ci troviamo nella pagina principale che va a specificare tutte le caratteristiche di questo nuovo sistema operativo. In realtà Windows 11 non è uscito troppo recentemente, è già infatti da più di un anno che questo software si trova in giro per il mondo. A partire da questa data ha subito davvero una trasformazione gigantesca. E quelli che erano i bug e i problemi che una volta lo affliggevano sono stati per la stragrande maggioranza risolti. Attualmente siamo alla versione 22H2 e l'ultimo update l'abbiamo ricevuto il 26 di gennaio. Come notate i requisiti hardware per installare questo sistema operativo sono abbastanza stringenti. Sebbene ci troviamo nel 2023 e sicuramente 4 GB di RAM o 64 GB di hard disk non siano più un problema in termini di costo, in molti li paragonano quelli di Windows 10. Come notate qui serve solamente 1 GB di RAM e la metà o meno dello spazio per quanto riguarda l'hard disk. Una marea di computer ancora oggi non possiedono la componentistica necessaria per eseguire questo sistema operativo. Abbiamo inoltre bisogno di uno schermo ad alta definizione. Vabbè ragazzi 720 lo abbiamo tutti no? Processore almeno 1 GHz con 2 o più core. Poi vabbè 64 bit ragazzi sono già 20 anni che c'è in giro. Questo lo saltiamo un attimo ci torneremo tra un secondo perché abbiamo tra le mani già la primissima differenza. Windows 11 è un sistema operativo abbastanza pesante e per questa motivazione è sconsigliato all'interno di tutti quegli ambienti che non hanno hardware a sufficienza per poter lavorare. Ora che abbiamo analizzato i requisiti hardware possiamo iniziare a valutare la cosa che l'utente medio reputa più importante. Ovvero, come è fatto questo Windows 11? È bello? È brutto? Dato che io non ho voglia di installarlo su una macchina virtuale vi faccio vedere un piccolo trucchetto online per poterne testare solo una parte delle funzionalità direttamente sul vostro browser. Andiamo su Google e digitiamo Windows 11 Simulator Online. Clicchiamo sul primo link e avremo un simulatore di Windows 11 fatto in React da qualche pazzo che si è divertito buttare un'intera settimana di lavoro. Leggero slide verso l'alto e andiamo a loggare dentro a questo nuovo sistema. Come notate le differenze sono davvero tantissime rispetto a Windows 10. Il nostro famoso pulsante Windows non si trova più in basso a sinistra ma si trova al centro. Sembra quasi che Windows abbia apprezzato parecchio le novità a livello di design introdotte da Apple. La prima cosa che ci salta all'occhio quando si apre uno o qualsiasi dei menu o delle applicazioni è la decisione di utilizzare questo effetto rotondeggiante praticamente in tutto il sistema. Sono puramente scelte di design e di aspetto ma se questa roba già non vi piace o vi urta al cervello avete sicuramente un motivo in più per non passare a questo sistema operativo. Come notiamo anche la barra superiore è stata modificata così come sono spariti i pulsantini di copia e incolla. Anche il menu che si apre con il tasto destro è stato letteralmente stravolto e anche il nostro povero terminale è stato un po' cambiato. Le funzionalità sono rimaste le stesse con qualche aggiunta che non coprirò sicuramente in questo video. Uno degli stravolgimenti più grandi è sicuramente quello del menu di start. Come vedete qui le applicazioni si suddividono in raccomandate e pinnate. Cliccando su All Apps avrete la possibilità di aprire tutte le applicazioni del vostro computer in ordine alfabetico. E quindi la rapida analisi sul design ce la siamo fatta. E dato che si tratta di un parere molto personale vi chiedo vi piace questo nuovo stile di design che Microsoft ha deciso di dare al proprio prodotto? Personalmente apprezzo moltissimo la nuova rotondità del sistema ma soprattutto mi piace moltissimo la disposizione che Microsoft ha scelto per i propri menu. Se lo provate per un po' di tempo vi accorgerete che avrete molte più funzionalità e scorciatori da tastiera che aiutano davvero tanto la vostra produttività. Quindi se c'è una cosa per cui bisogna assolutamente promuovere questo sistema operativo è sicuramente la sua spiccata capacità e orientamento verso il multitasking. Quindi se siete degli smanettoni che vogliono fare 350.000 cose contemporaneamente e vogliono tenere tutto quanto sotto controllo con un'ottima capacità di personalizzazione allora Windows 11 è sicuramente un'opzione da considerare. Una cosa invece che mi dà davvero fastidio è questo tentativo esagerato di creare un ambiente dove tutti quanti i nostri programmi siano in realtà applicazioni simili a quelle che si trovano sul cellulare. In alcuni dei commenti che ho letto sul mio sondaggio tra Windows 10 e 11 è stata definita smartphoneizzazione di un sistema operativo. Ma adesso è tempo di parlare di uno dei più gravi problemi di questo sistema operativo. Una delle motivazioni che ancora oggi spinge gli utenti a non fare l'upgrade a questa nuova versione è questo stramaledetto Trusted Platform Module versione 2.0. Ve la riassumo in maniera semplicissima. È un affare che vi serve per garantire la sicurezza all'interno del vostro sistema. Si tratta di questo minuscolo chip che viene piazzato all'interno di alcuni computer. Questo affare vi consente di proteggere le vostre informazioni personali ma soprattutto per verificare che il vostro sistema operativo sia integro e non sia mai stato manomesso. Ma la cosa che ci dà fastidio ragazzi è che questo coso non ce lo abbiamo tutti. Ma c'è una soluzione. Al momento questo computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema per eseguire Windows 11. Motivazione? IPM 2.0. Il mio computer sfortunatamente non possiede questo stramaledetto chip. In realtà questo requisito è facilmente aggirabile utilizzando dei software come Rufus ma è una pippa che secondo me potevano evitare di inserire all'interno del proprio sistema. Quindi se uniamo questa faccenda ai requisiti abbastanza stringenti soprattutto per chi ha il braccino corto a livello di hardware il fatto di dover smanettare un attimo prima di poter installare questo sistema su un computer non abbastanza nuovo per supportare questi affari so che darà noia a parecchi di voi. L'ultimo topic di cui dobbiamo parlare prima di passare a fare un po' di speculazioni su quelli che sono i rumor del prossimo sistema operativo Windows sono le performance lato gaming di questo sistema operativo. In questo ultimo anno sono stati fatti una marea di benchmark differenti. I due sistemi operativi sono fondamentalmente allo stesso livello. In casi però molto particolari con giochi abbastanza vecchi Windows 10 sembra spingere molto meglio di Windows 11. Se sceglierete Windows 11 non avrete quantomeno cali a livello di performance. Lo scheduler dei task di Windows 11 è veramente molto complicato. E la faccio semplice. La tecnica che il vostro sistema operativo utilizza per assegnare le risorse nell'esecuzione di vari programmi è sicuramente intelligente e fatta bene. Quindi è perfetta per la gestione della RAM e tutto quello che abbiamo detto prima quindi multitasking e bla bla bla. Ma lato gaming questa cosa non si è vista troppo. Quindi se vuoi scegliere Windows 11 per avere la ultimate experience lato gaming io alzo la mano e dico no puoi rimanere tranquillamente sul 10. Quindi paragone completato. Sei ancora convinto di voler passare a Windows 11? Bene aspetta un attimo perché in questo momento ci sono delle notizie scottantissime che nell'ultimo periodo stanno facendo desistere anche gli utenti più interessati alla cosa. Dalle ultime notizie che abbiamo appreso da casa Microsoft dopo il rilascio della versione di Windows 11 22 H2 abbiamo appreso che le ultime risorse di Microsoft sono focalizzate sul rilascio di una nuova major release. E stando alle ultime indiscrezioni ragazzi avremo l'arrivo di Windows 12 direttamente entro la metà di ottobre 2024. Mmm casualmente esattamente un anno prima dell'abbandono definitivo di Windows 10. Il nome in codice scelto per questa nuova versione di Windows è Next Valley. Durante la conferenza fatta quest'anno da Microsoft chiamata Microsoft Ignite è stato mostrato questo screenshot che contiene diversi elementi molto interessanti che potrebbero entrare a far parte di questa nuova versione di Windows. Una delle cose che si notano più in fretta è sicuramente il distaccamento della barra delle applicazioni. Quindi rispetto a Windows 11 l'hanno presa e l'hanno fatta galleggiare. Tengo a precisare che queste sono solamente speculazioni e rumor. Ma da quanto abbiamo appreso le caratteristiche presenti all'interno di questo screenshot dovrebbero rappresentare gli obiettivi che Microsoft si è posta nella realizzazione di questo nuovo sistema operativo. Se questa cosa si rivelasse esatta avremmo un ipotetico Windows 12 solamente dopo tre anni dal rilascio di Windows 11. Quindi vi lascio quelle che sono le mie personali opinioni sulla cosa. Se amate ancora il vostro caro Windows 10 avete tempo fino a ottobre 2025 per utilizzarlo senza problemi. Per quella data ragazzi sarà già uscito Windows 12 e probabilmente avranno già sviluppato il sistema operativo per l'anno di tempo solitamente richiesto per far sì che un sistema esca dalla fase embrionale e sia effettivamente ad uno stato utilizzabile. Non vuoi perderti le ultime novità e notizie relative al mondo tech? Allora lascia un bel like e ricordati in questo momento di iscriverti al canale. La Dani qui è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di questo telegiornale tecnologico.